Ciao! Oggi parliamo della mia esperienza al primo anno di medicina iniziata a 24 anni dopo una laurea in ingegneria informatica. Ebbene sì, questo è il mio percorso, molti di voi lo sanno, ma per quelli nuovi io mi chiamo Emilio e a 24 anni ho iniziato medicina e chirurgia dopo essermi laureato in ingegneria informatica. Due anni prima, perché... no, un anno prima. Poi ho trascorso un anno sabbatico in cui studiavo per il test la mattina e il pomeriggio e lavoravo in pizzeria la sera e alla fine mi sono immatricolato a medicina all'Università degli Studi di Milano. Attualmente sono ancora iscritto a medicina e ho finito il primo semestre del secondo anno. In questo giorno che sto registrando siamo ufficialmente in sessione e ormai manca poco al primo esame che sarà genetica medica, l'11 gennaio. Questo video spero che sia interessante per chi di voi si è posto questo dubbio, non ha ancora deciso, ci sta pensando, in questo periodo vuole fare medicina, è più grande di chi arriva dalla maturità e magari vuole vedere un'esperienza di qualcuno che l'ha fatto. Su internet siamo davvero pochissimi che ne parlano di questo tipo di esperienza non tradizionale, quindi iniziare a studiare, una nuova laurea, soprattutto una lunga come medicina, a 23, 24, 25 anni, che iniziate anche più tardi, e spero che possa essere utile. Sarà un video raw, no tagli, parlato davanti alla telecamera, un po' di real talk, mi sono fatto una scaletta che seguirò, che mi sono fatto anche lì su Notion. Partiamo raccontandovi com'è stata prima di iniziare. Prima di iniziare ero molto gasato, come vi ho detto ho fatto un anno in cui studiavo per il test, la mattina e il pomeriggio, e lavoravo in pizzeria la sera. È stato un anno strabello, mi sono divertito un sacco in pizzeria, a volte mi manca lavorare lì, mi trovavo bene, era un lavoro divertente e anche con le persone mi trovavo bene. E studiavo per il test perché non toccavo materie come biologia e chimica da 4 anni all'epoca, che chimica si fa il primo semestre, il primo anno di ingegneria, biologia non la facevo dal liceo. Fast forward, arrivati a settembre faccio il test di medicina, entro e mi immatricolo a Milano, ho scelto la sede Milano Statale perché banalmente era la più vicina a casa mia e mi dava la possibilità di frequentare senza dover fare il fuorisede e quindi risparmiare tempo e soldi. Ho colto la palla al bazzo anche perché gli affitti a Milano sono belli cari. Quindi questo è stato il pre, ero molto gasato, probabilmente la carica dell'inizio, della novità di queste cose e avere un anno in cui comunque studiavo cose che mi interessavano abbastanza perché gli argomenti del test erano molto interessanti, per me la biologia mi piaceva molto, materie che non toccavo da tempo e sono partito molto gasato, ho iniziato alla grande. Durante il primo semestre ho iniziato le prime materie e è stato davvero molto bello, devo dire mi è piaciuto, il primo semestre mi ha appassionato soprattutto perché alla Statale di Milano si parte subito il primo semestre del primo anno con anatomia e quindi entri già un po' nel vivo della medicina. Anatomia è una materia molto diversa da quelle che fai al liceo e dalla roba che avevo visto prima, ingegneria non parliamone. quindi ti senti un po', diciamo, nel panorama medico ed è piacevole. Poi c'era anche istologia, comunque un'altra materia abbastanza di indirizzo, mi sono piaciute entrambe. Poi vabbè, fisica, chimica e storia della medicina, interessanti, diciamo sono lì nel piano di studi, vanno date. La cosa che è cambiata lì sta un po' la routine che era molto diversa da ingegneria in cui non avevo... forse perché arrivavo dal liceo non avevo l'abitudine di studiare con costanza da subito, mentre a medicina per forza di cose sei un po' forzato e in generale capisci subito che dovrai studiare tanto. Più che cose molto difficili dovrai studiarne tante. perché personalmente, per la mia esperienza, non mi è sembrata più difficile di ingegneria. Anzi, le materie in sé più semplici, alcune molto più semplici, banalmente tante sono descrittive e basta. Però molta più roba, molta molta più roba da dover studiare, da dover ricordarsi e imparare. Che poi ti dimentichi, metà della roba te la dimentichi, quindi a volte ci si interroga e dicevo devo davvero studiare tutte queste cose, però vabbè. L'approccio è stato diverso, quindi mi sono trovato a studiare da subito con costanza, forse anche perché ero un po' più grande, avevo 24 anni quando ho iniziato, perché ho iniziato al 10 ottobre, io compio gli anni a ottobre prima, quelli avevo appena compiuti, e mi sono fatto tutto il semestre di lezioni, quasi tutti i giorni fino alle tre e mezza, il primo semestre, e studiando volta per volta non ci sono parziali, no, non c'era, c'era un parziale di fisica, però arrivando da ingegneria al Polimi, fisica, ero abbastanza ferrato, infatti non mi è pesato per niente farla, mi è venuto abbastanza naturale, molte cose me le ricordavo. A parte una roba tipo di, sui fluidi e tutte le applicazioni al corpo umano, che non avevo mai fatto, però non è stato difficile fare il passaggio. Primo semestre recap fatto, prima sessione di esami. Allora, esperienza per me è soggettiva ovviamente, è molto positiva. Ci sono stati giorni stressanti, perché hai tante cose da doverti ricordare, da doverti nere a mente il giorno dell'esame, quindi arrivi sotto esame che sei un po' stressato, oddio non mi ricorderò mai tutto, mi dimenticherò qualcosa, mi faranno una domanda impossibile, e quindi c'è un po' quest'ansia, perché poi in medicina puoi davvero approfondire all'infinito. E quindi realmente tu non sai mai dove fermarti con l'approfondimento del programma, se punti, non so, dici voglio sapere tutto. Sapere tutto è impossibile, perché ci sono talmente tante cose del corpo umano. Poi razionalmente sai dove fermarti, perché dici questa roba non me la chiederanno mai, o se la chiedono, la chiedono una volta su un milione. Però c'è questa ansietta in cui c'è questa pressione a studiare, poi c'è un po' la cultura dello studio a medicina, cioè tutti studiano tanto e quindi se non studi ti senti un po' non indietro, però dici cazzo gli altri stanno studiando di bestia, io sono qua che mi sto grattando i coglioni, e quindi ti spronano un po' a fare a studiare e si costruisce un po' di stress. La sessione fortunatamente è andata bene, anzi è andata benissimo, anzi è stata la migliore sessione della mia vita, non ho mai avuto risultati così a ingegneria, forse proprio perché se hai una buona etica del lavoro, una buona organizzazione del tempo, medicina ti dà questa soddisfazione, perché se studi tanto e bene, soprattutto se studi bene, ti viene naturalmente più facile l'esame, dove ingegneria se tu puoi aver studiato tanto è anche bene, ma se hai un esame difficile in cui ti esce un problema nuovo che tu non hai mai visto e non lo capisci, non arrivi alla soluzione corretta e sbagli, sei fregato. Mentre a medicina, se tu hai studiato quasi tutto e bene, per forza di cose sai che la domanda che ti verrà fatta è una delle cose che tu già sai, quindi devi soltanto andarla a pescare nella memoria in quel momento e ripeterla in maniera, diciamo che dimostri padronanza al prof o alla prof e sei a posto. Questo, unito al fatto che comunque mi piaceva molto di più di ingegneria, ero più organizzato anche perché iniziai 24 anni e non è che la prendi alla leggera, dici, non è che posso perdere tempo, gli esami li devo dare e anche in fretta, perché almeno io personalmente ho un po' quest'ansia del tempo che ho iniziato dopo e non posso perderlo. E quindi è andata bene. È andata bene, ho dato tutti gli esami e questo mi ha dato molta sicurezza inizialmente, durante l'inizio del secondo semestre. Dopo in realtà mi ha causato un po' più di stress del primo semestre, perché avevo questa cosa che dovevo performare bene anche nel secondo e adesso mi è andata bene, la sindrome dell'impostore, vedrai dopo, arriveranno le robe difficili, anatomia, non riuscirò mai a farla tutta assieme, perché l'anatomia sono questi tre libri qua e ti sembra impossibile. Poi all'unimi è un esame unico, orale, alla fine del primo anno, in cui devi fare tutto locomotore, tutto splancon, tutta neuro, tutto assieme, più microanatomia con la prova a microscopio. E un casino, quindi poi fai anatomia tutti i giorni a lezione, cioè ti esce dalle orecchie, c'è un po' questo stress di anatomia. Però anche lì, fatte le lezioni, tra l'altro per la prima metà del secondo semestre c'era anche biologia, che è parte di un corso che a cavallo tra il primo e il secondo si chiama biologia genetica. Biologia è nel secondo semestre del primo anno, genetica è nel primo semestre del secondo anno. Avevo fatto le lezioni di biologia, però quelle si fermano a metà semestre. Durante il secondo semestre, però, me li sono anche segnati, ci sono stati un po' di problemini tecnici, miei principalmente, che preso voi dal fatto che ero gasato a medicina, che la prima sessione era andata bene, e che mi sentivo sicuro di me, mi sono messo in centomila progetti diversi, centomila cose diverse, come il mio solito. Ho fatto troppe cose, e con il risultato che se ne fai troppe non riesci a farle tutte bene, quindi ti stressi perché ne stai facendo alcune male, perché ti sembra di non avere tempo, perché sei sempre che pensi che devi fare qualcosa e non riesci mai a goderti i momenti di relax. E questa è stata una nota negativa che ha caricato parecchio di stress. il mio secondo semestre è una cosa su cui ho lavorato molto durante il primo semestre del secondo anno, e vi spoilerò poi alla fine. In sostanza, durante il secondo semestre, ho mantenuto la medicina, con le lezioni e lo studio costante, uno studio intenso, molto intenso, cioè tante ore tutti i giorni, perché c'è questo esame enorme, anatomia, che devi tenere tutta mente il corpo umano. Più ho sempre lavorato, sia durante il primo semestre che durante il secondo, cosa che faccio tuttora, e ho iniziato a partecipare alle attività di un'associazione di volontariato dell'università, chi mi segue su Instagram lo sa, l'ha visto nelle storie, eccetera, e lì mi sono messo a fare centomila robe. Mi ha portato via tanto tempo, mi è piaciuto un sacco, però mi sono accorto che lavoro, medicina che porta via tempo, associazione, due team nell'associazione, canale YouTube, pagina Instagram, sono arrivato, ero pieno. Allora ho dovuto mollare un po' di robe, perché sennò sarei impazzito totalmente. Mea culpa, ho sacrificato un po' il sonno, l'attività fisica, il tempo libero, e non è stato così divertente come sembra, come magari voi state pensando, ora che lo vedete attraverso la telecamera. Controlliamo solo che stia registrando, se no mi spara un colpo, se per sbaglio non l'ho fatto partire. Ok, sta ancora registrando, perfetto. Io vedo da qua quello che voi vedete, così controllo l'inquadratura. Secondo semestre ho fatto troppe cose, con il risultato però positivo, che ho acquisito delle skills, ho acquisito delle skills di time management, assolute per i miei standard, davvero non avrei mai pensato di poter fare così tante cose assieme. Quindi tutto sommato sono soddisfatto del secondo semestre, nonostante il suo carico di stress, perché mi ha insegnato molto a organizzare il tempo, a prioritizzare le cose, gli impegni, a usare il calendario del telefono, a usare Google Calendar. Finalmente ho iniziato a segnarmi gli impegni sul calendario, a mettere le notifiche, cosa che facevo pochissimo, che quando si hanno tante cose da tenere la mente diventa naturale, praticamente. All'interno dell'associazione di volontariato, che si chiama Mission Brain, se foste interessati, abbiamo pure una pagina in Instagram bellissima, Mission Brain-Nimi, e... Ops, cade il foglio. Ho imparato, diciamo, a gestire un po' le persone, il lavoro in squadra, a gestire delle scadenze che non dipendono da me. Tutto ciò, col lavoro in mezzo, con l'università in mezzo, è stato molto stimolante. Però, arrivati alla fine delle lezioni, c'è stata la sessione estiva, un esame solo, anatomia, vabbè, lì mi sono chiuso in casa per tre settimane, in cui sono uscito davvero pochissimo sotto esame, e ho ripetuto tutto il programma, più volte, con uno studio costante durante l'anno, quindi non è che ho studiato solo tre settimane, perché sarebbe impossibile fare tutta anatomia in tre settimane, ma con un lavoro costante durante l'anno, di studio volta per volta, e tre settimane super 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 intense, mattina, pomeriggio e sera, quasi tutti i giorni, ho rivisto il programma bene, l'ho ripetuto, con un po' di sfasate, è normale per chi fa anatomia, e ho fatto anche anatomia, e lì, il 5 luglio ho fatto anatomia, è stata una bellissima sensazione, mi sono sentito proprio, un peso, che se n'è andato, tra l'altro, se sentite questo rumore alla mia sedia, che in futuro cambierò, però il rumore è quello, e ho fatto anatomia, e quindi mi sono trovato in un batter d'occhio, ad aver fatto tutto il primo anno di medicina, che mi è volato, a una velocità incredibile, questo insieme a mille progetti, e lì mi sono interrogato, ho detto, allora, secondo semestre mi sono ammazzato di cosa da fare, è stato troppo stressante, ho iniziato a pensare che avrei dovuto eliminare un po' di cose, così ho fatto un po' di tagli agli impegni ed associazioni varie, che magari vi racconterò in un altro video, per cercare di vivere più serenamente, in maniera più sana, il secondo anno, visto che ne ho davanti altri 4, terzo, quarto, quinto e sesto, ho detto, non possiamo arrivare al sesto così, però mi sono interrogato un po' sulla scelta, non dico medicina, alla fine del primo anno sei soddisfatto? La risposta che mi sono dato è sì, sono stato molto soddisfatto, ci sono stati un po' di momenti in cui dici, non ce la farò, è lunga, perché però passeggeri, quindi tutto sommato mi sento molto soddisfatto, se qualcuno di voi stesse pensando a questa strada, io vi do il mio parere, che è diverso da quello delle altre persone, ognuno ha il suo, però il mio parere è positivo, è un'esperienza positiva, ovviamente se avete la possibilità economica di poterlo fare, io ho potuto vivere ancora in casa con i miei genitori, e ho potuto non trasferirmi, perché la sede in cui sono entrato a Unimi è relativamente vicino a dove abito, se avete queste possibilità, e siete convinti che è una roba che vi può piacere, cioè avete il pallino magari da anni, vi fa cagare quello che state facendo, secondo me non è una scelta così folle come può sembrare, ovvio dovete parlarne con chi vi conosce bene, però tutto sommato sono soddisfatto. Altre riflessioni del primo anno, allora, si capiscono un sacco di cose quando si guarda Grey's Anatomy, rispetto a chi non studia medicina, va annoverato perché l'ho iniziato da poco, però è una roba che vi accorgerete, scherzi a parte. No, è stato molto bello, skills di time management, cioè di gestione del tempo e degli impegni, che sono andate su alle stelle, magari anche per quello vi farò un video dedicato, se siete interessati. scoperta che bisogna dedicare più tempo alle proprie passioni e ai propri interessi, quindi ho fatto un po' di tagli adesso per il secondo anno, mi sono convinto ulteriormente della mia scelta, le materie eccetera mi sono piaciute, non sono ancora dentro il mondo delle cliniche, quello si vede un po' dopo, però penso di essere sulla giusta strada, mi sento convinto, cioè almeno una convinzione che non ho mai avuto prima a ingegneria al Politecnico. E per chi di voi fosse interessato a capire come è stato passare dal Politecnico eccetera, perché ho lasciato, rimando i video già fatti sul canale, tra l'altro neanche tantissimi video fa, il canale è rimasto in pausa per mesi, è stata una delle cose che ho dovuto stoppare, insieme all'attività fisica che non è stata una saggia idea, perché non c'era molto tempo. E quel pochissimo tempo che mi rimaneva, volevo davvero buttarmi sul letto a guardare il telefono e a rilassarmi un attimo, o uscire un po' a mangiare una pizza, perché davvero ci sia una cosa che non volevo fare una volta... Cioè se voi fate una giornata da dieci ore di ripetizione di anatomia, arrivate alla fine che non volete né allenarvi, né studiare, né lavorare, né fare un cazzo. La roba che volete fare è uscire, o mettervi a letto a dormire, o guardare il telefono, perché è quello che succede poi. E aver trascurato l'attività fisica, aver trascurato il canale, è una roba che mi è mancata, mi è mancata, mi ha generato un po' di stress, e ho detto, senti, adesso anno nuovo, 2024, 2024, nuovi propositi, nuovo refresh, ho deciso di ripartire con calma, fare qualche video ogni tanto, anche solo per raccontarvi del mio percorso per tenervi aggiornati. realmente sono riuscito a dedicarmi a un progetto che volevo fare da tempo, che è un podcast, che ho iniziato a fare con un mio caro amico del liceo, in cui parliamo di salute e longevità. Una delle motivazioni grandi per cui ho iniziato medicina, appassionarmi al corpo umano, la salute e la longevità, si chiama 8 ore, facciamo gli episodi su Spotify, abbiamo anche la pagina Instagram, ve la lascio anche in descrizione se siete interessati, così lì potete sentire me che parlo per un'ora bella piena e vi tiro matti, su salute e longevità in compagnia di Edo, il mio amico, e basta direi che come video one take è venuto abbastanza bene, secondo me, spero, che vi possa piacere. Se siete interessati, altre, magari analisi sul primo anno di medicina, qualcosa su come scegliere dopo, per chi ha dei dubbi magari che vuole iniziare medicina 24, 25, 30 anni, oppure robe sulla gestione del tempo che vi possono interessare, fatemelo sapere nei commenti che ho sempre letto con piacere, anche se non ho risposto, comunque ho sempre letto, è stato bello vedere che comunque si è rimasti attivi, anche durante tutti questi mesi. Ci vediamo con il prossimo video che non so quando sarà, perché ho deciso che li terrò fatti più per passione che per impegno, quantomeno per ora sul canale, in questi primi mesi, in cui devo togliere un po' di ruggine e ripartire a parlare alla telecamera. Ciao!